Ok, sì, ti lascio un pacchetto Un pacchetto Pacchetto Ciao, pacchetto Pacchetto Che contiene un pacchetto Un pacchetto Che contiene Un altro pacchetto Che contiene Un pacchetto Un pacchetto, questa volta con Una scritta Che contiene un pacchetto Pacchetto Ciao pacchetto L'ultimo adesimo non lo taglio Non lo taglio praticamente Questo vedremo Manuale di istruzioni Che non serve mai Manuale di istruzioni per l'app Per connettere Ma che carino Questo qui lo straccino per lavare per terra D'accordo Spina Cartone La sua bella Base di ricarica A cui va attaccata la spina Poi lui Bellissimo Con la torre Che con la torre Ma che bei motori, e poi qui dentro, qui dentro basta, quindi indispensabile base di ricarica, questo per lavare per terra, di questo ne ho tanti. Ah, questo proprio me lo devo incollare per terra. Vabbè, vedremo. Un po' di plastica di ogni genere. Un po' di plastica di un po' di plastica. Questo dovrà trovare un posto. Lo mostro un pochettino più da vicino. Questa è la torretta laser che fa la scansione di casa. Questi sono i due pulsanti che hanno. Due sono. Questa è la vaschetta dell'acqua per lavare per terra. Sotto le meccaniche dell'aspirapolvere. La parte anteriore è un sensore di contatto. Basta. Tutto qui. Grazie. Grazie.